Siamo adesso con Pietro Groberio, presidente e fondatore di Prima Grasa, un gruppo immobiliare che oggi è stato presentato alla convention di 24 Finance, mi chiedo di presentarci un po' il gruppo, dove siete presenti, quanti siete e come vi posizionate sul mercato? Noi siamo la seconda rete nella zona del nord-est, operiamo con 50 punti vendita e 170 operatori all'interno delle agenzie, movimentiamo circa 1.500 compravendite l'anno per 180 milioni di fatturato, abbiamo l'obiettivo con 24 Finance di portare avanti anche un progetto di acquisizione dei mutui per le compravendite della nostra clientela. Come nel concreto si svolgerà questo rapporto tra voi e 24 Finance? Diremo che dovremmo costituire una società in compartecipazione, la rete di vendita già esiste e pertanto noi convoglieremo tutte le nostre pratiche di mutuo ai venditori creditizi di 24 Finance. Benissimo, i vantaggi più immediati che riceverete da questo accordo quale saranno? Innanzitutto un'attenzione particolare, perché oggi noi diamo le pratiche mutuo ai mediatori creditizi singoli, qualche gruppo, però non c'è un referente proprio fisso, noi mettiamo a disposizione una mezza giornata alla settimana l'ufficio per il mediatore creditizio e tutta la clientela che si avvicina a noi per l'acquisto della casa che ha bisogno del mutuo prima di andare a vedere nel caso che facciamo fare un appuntamento con il mediatore creditizio affinché ci dica che tipo di spesa può affrontare il cliente. Quindi vi aspettate un'attenzione maggiore? Certo, ma sicuramente ce la danno. Visto che Rino Moscariella ha parlato anche di competenze che vengono date da voi verso 24 Finance, qual è l'apporto che pensate di dare? Ah diremo, io ne ho parlato così però non è il mio campo. Però la rete sarà potente dare, no? La rete si accomboglierà anche con le sessioni del quinto. Dopo io non so come si approcciano con la banca, se hanno una piattaforma dove la cede centrale passa le pratiche alle banche o se i mediatori creditizi vanno ognuno nella propria banca. Secondo me sarebbe dispersivo. Certo, sicuramente utilizzando. È come andare a tiro a segno con il fucile a caccia. Assolutamente. Parte mille pallini però. Il vantaggio sarà utilizzare proprio le piattaforme di 24 Finance. La piattaforma dove ti dà più peso e puoi avere una voce diversa con l'istituto di credito perché se tu porti 10 mutui hai un peso per se ne porti 100. È un'altra cosa, assolutamente sì. Bene, allora io intanto la ringrazio. Niente, grazie a voi. Speriamo di rivederci il prossimo anno alla prossima convention per parlare un po' di risultati ottenuti. Di risultati ottenuti. Grazie Dante. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.